Io ho lavorato all'Africa d'Aunia, a 14 anni, per dimostrare a mia madre che non avevo bisogno della scuola, perché una professoressa mi aveva detto che quando io scrivevo non era farina da mio sacco, guarda dove sono, mi hanno licenziata subito perché mia madre mi ha fatto licenziare, perché diceva che non era necessario che io dimostrassi che potevo lavorare, lo sapeva benissimo, infatti mia madre è stata una grande femminista ai tempi che si sono aspettati con queste signore, ho lavorato lì un po' e poi mi hanno mandato via con una qualsiasi scusa, non diceva sei troppo piccola, però ho imparato una cosa importante, come si scongela la roba surgelata, perché vedo che molte persone fanno errore del tossico, per cui sono molto grata di quelle poche settimane che ho lavorato, e poi io non posso dire che ho fatto fatica, non mi permetto di dire che la vita è dura, perché credo che lo sia anche per gli uomini, quando vuoi ottenere qualcosa, quando hai un sogno e devi essere persistente, non so, non mi ricordo qual era il mio sogno di quando ero bambina, però credo che uno di quelli che mi ricordo è che volevo viaggiare molto e ci sono riuscita, e poi comunque ho avuto l'occasione, a fortuna di lavorare con persone straordinarie, ma ho dovuto lottare, certo, ma lottare come essere umano più che come essere donna, io ho avuto questo atteggiamento di non pensare che ero una donna, ma che ero un essere umano capace, come dice Benigni, le donne sono uomini anche loro, come gli uomini sono, come gli uomini sono, come gli uomini sono, cioè un'umanità, e ho fatto tante lotte, altro che CGL, ne ho fatte di lotte per essere riconosciuta le ore dovute, quando lavoravamo ci facevo lavorare 12-15 ore al giorno, e io ero una, sono stata una delle prime che ho detto, ma neanche per idea, mi rifiuto e non lo facevo, e poi ho cominciato a convincere anche le altre che avevano paura perché avevano figli, famiglia, io ero libera per cui per me era più facile secondo loro, invece non era facile affatto perché mi si è intossicato il fegato, perché mi arrabbiamo davvero a quei tempi. Poi la vita di donna ha tante spaccettature, puoi essere un genio, però non puoi essere una buona madre, oppure puoi essere una magnifica madre, io trovo che le madri sono straordinarie, sono i geni di questo mondo, perché crescere anche degli uomini e delle donne è un grande lavoro, non è soltanto quello artistico o cosa che conta. E la mia vita, la mia carriera è venuta fuori con tanta dedizione, ma anche con tanta soddisfazione e piacere di fare quello che volevo fare. questa è una cosa che io voglio dire alle donne, di essere sicure che vale la pena lavorare sodo per quello che si crede, per quello che si vuole, più che altro. Grazie. Grazie. Grazie.